yugio a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale guardate cosa c'ho qua abbiamo un boxettino di battle of chaos il problema che non è da solo ne abbiamo due abbiamo ben due uno è gentilmente offerto da magic corner quindi vi ricordo codice sconto 2022 cappello per ottenere il 10 per cento di sconto su tutti i prodotti che non sono in offerta per il resto sti cazzi vi attaccate allora abbiamo un box di battagli del caos da aprire cosa possiamo trovare qua dentro quello schifo di magia frandris che io spero di non trovare che tanto lo sappiamo tutti che calera di prezzo però se non cala francesco me la pagherà a prezzo pieno se no di molto simpatico ci sta il rituale dei dark magician diciamo che non è la carta più ambita del set però diciamo che anche quella sta una fracca di soldi se no cosa c'è ah c'è la chimera molto molto carina che anche quella sta calando di prezzo e il synchro swarzel che secondo me sarà l'unica carta che nel tempo salirà di nuovo perché tanto secondo me sarà come hit che esce poi sai è l'unica carta che non viene ristampata quindi è normale che con l'uscita dei team quella salirà di nuovo ovviamente se il mazzo è ancora giocabile l'obiettivo adesso sarebbe trovare il mago nero quello e poco altro mi sposto nella postazione degli unboxing e andrei con l'apertura del nostro bellissimo box comunque vi ricordo che utilizzando il codice sconto 2022 cappello potete ottenere sul sito di magic corner il 10 per cento di sconto su carte singole prodotto sigillato allora erenz se non c'è qualcosa di decente solita storia eh vengo su e ne parliamo eh allora secret al terzo pack vediamo abbiamo la platessa è molto carina mostro bambola orsetto orsetto onibimaru spezza anima guerrero magnetico epsilon carino e ma partiamo sulla secret vediamo adesso uh non l'avevo riconosciuto bello spada anima onesto onesto allora erenz ti sei fatto perdonare per l'ultimo box che non era così eccezionale diciamo che ce può sta mi piace dai penso che insieme a moglie sono gli swarzel più belli tocca la fodera primo pack ci siamo giocati il content di tutto il box a sto punto nel senso qua adesso chiudiamo la live perché ormai il content è finito guarda è bella fortuna che c'è il mago nero ultra che tira sulla situazione altrimenti ci manca solo che al secondo pack c'è l'altra secret finito basta tutto il resto lo mettiamo da parte vendiamo sul car market tutti tutti i pacchetti pesati è a posto dopo facciamo un conto di quanto di quanto abbiamo lucrato anzi andiamo a vedere quanto sta così ci facciamo un'idea 12 euro onesto dai speriamo non cali ancora però va bene dai per adesso una carta non è stata totalmente buttata via secondo pack seconda secret è a posto allora abbiamo scaglie roccia poi senneri argentivite ura d'ora del destino neiroi sole luna incredibile sole luna daie altro euro e 50 io spero di non finire tutto adesso perché vorrei tirare avanti almeno un'ora abbiamo guscio dinomorfia che già c'è che ha iniziato i suoi intrallazzi a prendere roba dinomorfia in modo tale da montare dino in un'altra versione avremo la 75esima checklist e testing del mazzo incredibile abbiamo guscio dinomorfia mondo nuovo chiaro abile mago marrone questo gli hanno cagato addosso allora abbiamo poi vampira affascinante quindi stavano qua dentro i supporti vampiro vabbè il resto è abbastanza una merda perché ho visto su gli spoiler degli ots che hanno reprintato alcune carte vampiro terzo pack dai andiamo piano smintiamo tutte le carte che stanno dentro e andiamo a vedere discepolo marchiato poi kaiza la stella nascosta ddd caccia dei talenti a noru aries il drago vernale e alice la signora del lamento che merda andiamo a vedere col prossimo supportino fantasma trucco un po un po tanto minorenne va bene dai abbiamo senri agevo vite un bimaru darton la mostruosità meccanica e dinomorfia steltergia vabbè uguale è un è un aerodattilo meccanico va bene comunque no erenz alice non è best waifu allora prossimo pack sarebbe figo questo box scammato esce il mono secret e basta non ci sono neanche le ultra prossimo pack guarda se becco la secret degli iceland te vengo a prendere poi l'offro da bere ovviamente non si mettono le mani addosso alle persone neanche a quelli che stanno in chat e che ti portano sfiga novru aries il drago venerale scaglie roccia fine della corsa kaiza la stella nascosta e la prima no la seconda ultra ddd re dell'ideazione fanno finta di non averla vista andiamo avanti che diciamo che il ddd non è il best mazzo preferito delle persone e non è la best carta costosa diciamo eh però va bene nel senso se questo è quello che mi vuoi concedere ce lo facciamo andare bene però cioè è un po to match eh next pack allora abbiamo erosione ghiacciogiata mondo nuovo chiaro testa opale di fuoco mostro rinascita e poi abbiamo il supporto nordic molto carino ci sta comunque il questo questo l'ho mangiato in un panino quando sono andato a milano al cinghiale bello allora next pack abbiamo kaiza la stella nascosta poi fanciulla acero scaglie roccia negli ori il traditore specchio dei sogni e intervento libromante va bene allora apriamo abbiamo sirena fantasma trucco questo mixtro un fantasma trucco e un mermail abile mago marrone che cos'è evoca poi guadagna 1500 d'attacco il suo livello aumenta di 1 aggiungi un curibo moltiplicatore dal deck al cimitero va bene quindi il bianco evoca il combattente il nero il mago nero e questo lavora con curibo poi erosione ghiacciogiata fine della corsa incredibile incredibile box chimera guardiana che figata che figata tutte e due le secret buone adesso tocca a foscio il mago nero o il mago nero o no il mago nero e la prismatica per forza mamma mia tanta roba magic corner non delude mai eh ogni box ha le sue sorprese ogni volta lascia sempre qualcosa daie daie prossimo pack questo è un mostro normale ma sicuramente sarà la bambolina allora incredibile abbiamo allerta dinomorfia mostro bambola orsetto orsetto poi prestigiatore dimensionale sirena fantasma trucco visione con gli occhi di blu questo è un artwork ripreso dal manga se non sbaglio incredibile cioè è molto bella la carta prossimo pack vediamo allora abbiamo epsilon kaiza la stella nascosta ddd caccia di talenti erosione ghiacciogiata e dd grifone un altro dd totalmente inutile grazie a tutti altro pack allora guscio dinomorfia poi abbiamo senri argento vite mostro bambola orsetto orsetto però non è questo il mostro normale che vogliamo è un altro che è una citazione alla vecchia carta bandai del mago nero avvia il mago marrone quindi questo chiama il curibo ma visto che il curibo non c'è il curibo sta nel mazzo dei yugi ce deve essere per forza il mago nero libro manta gente andiamo a vedere la prossima discepolo marchiato colpo fantasma trucco onibimaru mostro rinascita e s forza va bene va bene dai tanto il mazzo non se lo inculava nessuno prima sicuramente non è grazie a retroattività che la gente se lo inculerà prestigiatore dimensionale mondo nuovo chiaro allerta dinomorfia teoricamente l'ultra è qua sotto no no vabbè doom broker vediamo libro mante potrebbe stare a qualcosa onesto onesto il suo euro e venti li vale tutti vai andiamo altro pack è rimasta un ultra e forse e forse la collector ma non ci credo lo faccio per luca una due tre no 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 ma per gli ursartici nel 2022 in che senso secondo me è questa che porta sfiga è porta sfiga e quindi ursartico chiama ursartico per forza cioè non si spiega se no ma a chi è venuto in mente di mettere all'interno del set cioè c'è tanta di quella roba che devono portare da noi ma mettiamo il supporto ursartico perché cazzo la gente vuole giocare sto mazzo allora qua non c'è niente non c'ha l'odore di carta costosa infatti ve lo dimostro subito mancano cinque pack non è ancora uscita la super ammagliatrice oscurità non vorrei dire abile mago marrone caglie roccia ma un'altra ultra box box fallato cinque ultra nel senso wow l'ultima ultra poteva essere una roba incredibile ma invece è la prima apparizione libromante wow ma cinque ultra in un box c'ho pure il titolo box più sculato di sempre più cinque ultra tocca tocca fallare di nuovo ha portato bene fare così che ne sai eh anche questo non sa de de carta fortunata quindi teoricamente o è un'altra ultra di merda o o non c'è niente per forza mondo nuovo chiaro fanciulla cerbo soldato dimensione oscura altro pack carta inutile carta inutile carta inutile la ultra sta qua sotto per forza intrusione imprudente motivato dalla tribù dolcetto fantasma trucco la zanzara fabbro nordic i valdi io giuro che se ci siamo giocati il mago nero perché è dovuto uscire un'altra carta magia ultra che non è quella flanderise che almeno vale 17 euro qua è da fare clamo testa opale di fuoco darton la mostruosità meccanica caccia di talenti s forza retroattività non ci siamo allora mago nero non tiene il posto dell'ultra ma quello di una common quindi puoi trovare la starlight e mago nero nello stesso pack e abbiamo due pack ancora a disposizione cioè questa ribalta totalmente la situazione cioè potrebbe esserci qualsiasi cosa cioè se esce il pack starlight mago nero e qua mi tirugio i pantaloni mi dovete succhiare tutto il pisello allora norvru aries mondo nuovo chiaro colpo fantasma trucco onibinaru e cool enion cenote ghiaccioggiata allora bisogna fare le robe fatte per beh dove sta ecco prendiamo il bisturi incidiamo bene sopra in modo tale da non rischiare di rovinare la prismatica è un lavoro di precisione ragazzi così che mi giocai tutte le carte e le dita abbiamo inciso togliamo anche il retro e tiriamo fuori le carte piano eh la testa sostifoglia discepolo marchiato prestigiatore dimensionale senneri agevo tovite e niente dittatore dd eh ragazzi ci abbiamo creduto ci hanno fatto pure crede che potevamo averci il box scammato in positivo con una ultra in più e invece è andata così ci abbiamo provato eh abbiamo messo del nostro eh ci siamo impegnati però serviva più impegno prossima volta vado a far palestra prima dell'opening almeno così mi sento mi sento più in forze comunque non ci possiamo lamentare nel senso abbiamo trovato un sacco di roba interessante quindi ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i miei social per seguirmi ovunque anche il link di Magic Corner caso mai volete acquistare questo box e il mio link di Instagram quindi ragazzi state mesi e noi ci rivediamo settimana prossima sempre qua con un nuovo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti